Ciao, vi sto registrando questo piccolissimo video messaggio da casa, come vedete, in mezzo ai campi, in mezzo alla natura, in mezzo al nulla, in mezzo al tutto, per ricordarvi che mercoledì scade la promozione sul corso Frammenti di Esoterismo Insta. Ricordatevelo, vi metto qua sotto il video il post con tutte quante le informazioni, con le parole cancellate così l'algoritmo. Non si arrabbia, non ci resta male, è un corso fighissimo, Maurizio è un bravissimo insegnante, è già fatto con Aretus Academy due corsi che hanno avuto molto successo, sono stati veramente dei corsi di grande valore, qua c'è la mia bambina che gioca a palla, dategli un'occhiata, guardatevi il programma del corso perché veramente, veramente vale la pena e avete ancora due giorni per iscrivervi e poi il corso si paga a prezzo pieno, non più in promozione. A presto, ciao!